Avevamo poco materiale per questa video anteprima, ma come si fa a non parlare di Assassin's Creed 3? Godetevi quindi la nostra sintesi dettagliata sulle avventure di Connor, il nuovo antenato di Desmond. Dopo analisi e brainstorming di idee e possibili scenari, ma soprattutto dopo quattro capitoli tra Italia e Medio Oriente, portare il nuovo episodio in un altro continente, i novelli Stati Uniti, patria della democrazia moderna, è una scelta perfettamente in linea, tanto a livello politico quanto geografico, per una saga che tocca tematiche globali. Gli eventi porteranno i giocatori a rivivere tutto il periodo storico della rivoluzione americana, riscrivendo la storia. Un grande plot narrativo che permetterà di vivere la creazione di una nazione, anche grazie all'inserimento nell'ossatura di gioco di diari, lettere e documenti per dare ancora più coerenza temporale al tutto. Metà nativo americano e metà inglese, il protagonista è Connor e diversamente dalla fredda mente calcolatrice di Altairo, dalla sete di vendetta di Ezio, egli agisce per la libertà della sua nazione. Un personaggio che inizia come difensore della patria, ma che nel corso della lotta prenderà maggiore consapevolezza del suo ruolo nello scacchiere che contrappone gli assassini ai Templari, garantendo la stessa crescita morale e umana degli altri episodi. Una volta conosciuto il nuovo setting del gioco, il timore era di perdere quella piacevole sensazione nello scalare chiese medievali, cattedrali e torri, visto che gli Stati Uniti di fine Settecento sembrerebbero non prestarsi ad una spiccata verticalizzazione del gameplay. I ragazzi di Ubisoft sono quindi andati all'offensiva inserendo la corsa dinamica. Nelle foreste vediamo Connor saltare tra gli alberi e, aiutato da una visuale fluida e molto cinematografica, correre tra i cespugli, muoversi con difficoltà tra la neve alta, lasciando impronte e tracce per poi sfruttare in corsa un tronco per saltare in agilità un ruscello, il tutto con animazioni perfette. Grazie ad armi come Tomahawk e catene da lancio, il flusso di pressione dei tasti per l'esecuzione delle mosse sembra essere più armonioso, portando a sequenze di lotta hollywoodiane pronte ad appagare occhi e mani. Assassin's Creed 3 ci porta anche a New York e Boston dettagliatissime e ben proporzionate. Ambienti grandi e pieni di posti da esplorare, caratterizzati tutti dall'ennesima novità introdotta, ovvero la mutazione del tempo atmosferico che alternerà nebbia, pioggia, neve e sole in un ciclo stagionale studiato per offrire nuove esperienze e opportunità di gioco. Boston è un esempio della grande attenzione posta dagli sviluppatori nel creare città realmente vive. Il mercato è pieno di voci e colori, tutti gli abitanti sono diversi e stupisce la caratterizzazione che permette loro di essere diversi per altezza, corporatura e modo di muoversi. È indubbio come il character design sia stato uno dei punti dove maggiore impegno è stato investito nello sviluppo, per evitare quel senso di déjà vu al quale ci si era tristemente abituati. Con una data di uscita già confermata per fine ottobre e la promessa di ripulire ed ottimizzare ogni sequenza per creare il migliore Assassin's Creed sempre, sale la curiosità di vedere in quale modo Desmond sarà protagonista della sua lotta nel presente mentre sistemerà i pezzi del puzzle ordito da Ubisoft. In ogni modo, benvenuti negli Stati Uniti d'America, la rivoluzione è appena cominciata.